Un progetto abbastanza faticoso e anche abbastanza sui generis di questo polo che abbiamo chiamato in onore dello scrittore Dino Carlesi, Polo Dino Carlesi, in un punto strategico di Ponte d'Era, un edificio che secondo me è fino a ora mal descritto dal punto di vista della comunicazione perché gli è stato dato il marchio di Ecomostro, ma un cantiere non lo possiamo definire Ecomostro. Da un'opera incompiuta, con un utilizzo completamente diverso da quello che noi andiamo a identificare, era quello di un centro commerciale, riprende anima attraverso un'operazione per farlo diventare un polo scolastico, che vogliamo definire Polo Dino Carlesi, perché questo polo Dino Carlesi, senza chiamarlo scolastico, lo definisce in varie sue forme. Il verde è la cosa più importante, tutta l'area per me dovrebbe essere riqualificata con grossi elementi e impatti di giardini, ma addirittura sono arrivato a identificare anche dei giardini pensili, non fruibili, ma esteticamente perché questo verde dalla terra salga verso l'altezza dell'edificio. Ponte d'Era sappiamo che è già una città che è dedicata al processo sull'arte urbana, già da 20 anni facciamo questa operazione, però non lavorerei con gli artisti, lavorerei con un fatto grafico e adotterai due elementi solamente, i numeri e le lettere, questo perché? Perché i numeri e le lettere hanno una possibilità creativa illimitata, identificano il luogo e in più c'è la dedica importante a Dino Carlesi, scrittore e poeta della città, lo spazio è diviso in tre piani, ci sono aule, laboratori, una grande hall d'ingresso, la seconda hall al secondo piano, un auditorio, una grande palestra, è un lavoro di equip, un lavoro fatto dalla ditta Cemes a tanti padri questa cosa, un'impresa molto bella, molto difficile perché c'è da stare dentro un plafond di costi, un plafond di strutture già fatte, un plafond di alchimie burocratiche particolari e di regole particolari e quindi l'augurio è alla città e a Matteo che è il primo cittadino che porta avanti questo progetto.